Filippa Lagerbac Filippa Lagerbac, secondo figlio con Bossari? Ecco cosa ne penso Grande fratello VIP Il conduttore Daniele Bossari continua a sorprendere, Filippa entusiasta. Il grande fratello VIP nella scorsa puntata ci ha regalato forti emozioni, grazie al concorrente Daniele Bossari. Quest'ultimo è tra i possibili vincitori del reality show grazie alla sua cultura, la sua purezza d'animo e la trasparenza di pensiero. Il conduttore Daniele Bossari aveva espresso più volte il desiderio di sposarsi con Filippa, dopo ben 17 anni di convivenza, con la quale ha una figlia, Stella di 14 anni, e anche di avere un altro figlio. Daniele ha sorpreso anche la compagna Filippa, la quale non intende sbilanciarsi molto, sebbene sia contentissima dei progetti che intende intraprendere il suo compagno. Il settimanale chi ha intervistato la modella e ha chiesto il suo pensiero in merito a una possibile seconda gravidanza. Il grande fratello ha deciso di rendere possibile questo loro desiderio, e durante la diretta, colti dalla sorpresa e dall'entusiasmo generale, Bossari ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna. Daniele Bossari dopo la proposta di matrimonio vorrebbe un secondo figlio. Filippa, intervistata dal settimanale di Signorini, afferma, Iniziamo a rifare molta, molta pratica e molto volentieri. Per il figlio vediamo, chissà e lo devo guardare in faccia, per capire se era la frase del facile entusiasmo. Lui lo ha detto, ora vedremo. Nostra figlia ha 14 anni, presto andrà a studiare all'estero. Così noi ci potremo godere noi. Filippa segue costantemente il compagno all'interno del GF VIP e spesso scrive sui suoi social dediche, che manifestano il suo amore e la mancanza di questi giorni. La modella ha anche pubblicato una foto durante la sua prima gravidanza, in attesa della figlia Stella per ricordare il periodo felice. Filippa e Daniele rappresentano il vero amore. Bossari durante questa esperienza televisiva ha colto l'occasione per riflettere sulla sua vita e i veri valori. Daniele ha compiuto una vera e propria autoanalisi, dimostrando la maturità che lo contraddistingue, e dichiarando di essere pronto a realizzare i desideri della compagna Filippa. Quest'ultima è, secondo il conduttore, una compagna perfetta e la donna della sua vita, non avrebbe potuto desiderare nulla di meglio. Filippa, sebbene sia contenta del percorso televisivo del compagno, preferisce parlarne prima privatamente e poi diffondere notizie importanti. Filippa, sebbene sia contenta del percorso televisivo del compagno, preferisce parlarne prima privata, non avrebbe potuto desiderare nulla di più.